Buonasera a tutti, noi siamo Robocop, progetto di sperimentazione e ricerca che mischia arte e architettura con base tra Roma e Londra, composto dal sottoscritto Lorenzo Zandri e collega Luca Pozzati. Robocop si occupa di installazioni urbane principalmente e oggi presenteremo il nostro intervento, pienerente anche alla installazione che abbiamo realizzato per il FAR 2024 che si intitola Visioni Virtuali, quindi vuole declinare secondo il significato di queste due parole tutti gli interventi che abbiamo realizzato dal 2012, che è l'anno di fondazione del nostro studio fino ad oggi, in cui il tema cardine di solito dei nostri interventi è quello dell'utilizzo dell'illusione pittorica e architettonica come strumento di rivitalizzazione, rivalutazione del contesto urbano e anche domestico attraverso le nostre installazioni. Al fine sì di creare sostanzialmente degli immaginari possibili attraverso un sistema di prospettivo, di illusioni appunto che lavorano dal confine tra la dimensione bidimensionale e l'intimensionale. Grazie.